E poi cominciamo a dedicare a ognuno di noi, a cada uno, un momento in un show, per mostrare la nostra personalità. E ora, il primo cantore, il primo che va a cantare, signore, signore, Ignazio. La domanda è, se sono il primo a cantare, non sei perché è ancora il primo. Signore, signore, Ignazio.